buongiorno ben trovati carissimi telespettatori fano tv benvenuti alla nuova alla nostra rassegna stampa e rassegna stampa che comincia come sempre con il santo del giorno oggi in realtà la chiesa celebra la festa esaltazione della santa croce come vedremo tra un istante del cartello eccolo qua martedì 14 settembre l'alba alle 6.46 il tramonto alle 19 e 21 minuti uno sguardo anche al tempo oggi è martedì eccolo qua il tempo previsto per la giornata di oggi con il sito della protezione civile delle marche avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionari un lieve aumento per la giornata di domani ancora cielo sereno anche se ci sarà un aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio temperature senza variazione di rilievo pioggia invece per giovedì 16 dal pomeriggio brevi fenomeni nelle zone montane ancora temperature in lieve aumento possibile peggioramento per il fine settimana in particolare nella giornata di sabato per un transito di una saccatura cose da esperti ma noi interessa ecco relativamente nel senso che insomma per ora ci fermiamo a giovedì dopo vedremo nelle prossime ore intanto andiamo a vedere i titoli delle prime pagine dei giornali di oggi che ho selezionato per voi allora corriere adriatico edizione di pesero le prime denunce sono dei prof nodo vaccini cinque insegnanti hanno dato mandato al legale quindi all'avvocato di procedere contro i presidi via ai controlli a campione nelle scuole materne del comune i genitori trovati tutti in regola l'ex cifra di pesero l'ultima spiaggia è l'asta il complesso per chi conosce la zona ovviamente i pesaresi lo sanno il complesso è una brutta cartolina un po come avevamo anche noi a fano l'ex cifra che poi è stato abbattuto ormai molti anni fa lì questo è ancora in piedi il complesso fatiscente cerca offerte e poi andiamo a vedere invece quest'altra notizia che è qui pubblicata sempre in prima pagina sul corriere di oggi di spalla sulle vaccinazioni la spinta si è esaurita medici di base e open days per rilanciare e ci si ridà ancora con gli open days i numeri lo reclamavano per le cifre impicchiata la cabina di regia di ieri ha confermato il problema calo delle vacillazioni drastico dalle punte di 17 mila ai 6 mila 8 mila degli ultimi giorni terminata la spinta del green pass non c'è stata l'annunciata ondata degli indecisi medici di base in prima linea e tornano gli open days promossi dall'azienda ospedale riuniti di ancona e mentre dalla prima sempre del corriere di pesero la cronaca fossombrone centro pagina cerchiato di rosso lo vedete pedone investito sulla flaminia mentre attraversa amga invece tornando a pesero finalmente la bonifica a 11 anni dall'inquinamento urbino proteste alla partita di calcio per frasi razziste contro un calciatore sotto invece da fano fedeli fermati in chiesa non avete il green pass proteste a san paterniano dove si teneva un concerto bloccati all'ingresso la reazione è stata noi vogliamo pregare però non avevano il green pass e quindi siccome c'era poco prima della messa c'era ancora in corso un concerto perché in chiesa si fanno i concerti naturalmente le messe sono una cosa che viene dopo prima si fanno i concerti i convegni si fa tutto in alcune chiese anche i pranzi e poi dopo si fanno le messe quando c'è tempo e c'è spazio non vaccinata grave dopo il parto questa è un'altra notizia che arriva invece dal resto del carino edizione di pesero cesareo d'urgenza per una trentenne che aveva contratto il virus adesso in terapia intensiva picchiato e derubato più volte un ragazzino di 16 anni si ribella e manda a processo i bulli e poi a centropagini invece corsa la vl subito in fila per gli abbonamenti parliamo di basket di sport dunque c'è chi si è svegliato addirittura all'alba l'incontro invece tra presidi e avvocati i presidi che vanno a lezione dagli avvocati per capire un po come districarsi sulla questione del green pass perché ci sarà da discutere ovviamente le regole sono blindate e ancora sullo schianto fatale che è avvenuto a fano che è costato la vita ad un 57enne meccanico si oggi si legge sul giornale che questo che la vittima segnalò il pericolo con un post su facebook poi lavoro in corso bonifica ex amgarici dice a maggio sarà finita invece sotto palazzo baviera sempre a pesero vedete il palazzo che insiste sulla piazza principale di pesero cioè piazza del popolo palazzo baviera che finisce in vendita e poi la denuncia l'urbino frasi razziste al nostro giocatore la squadra di calcio appunto dell'urbino denuncia queste frasi che tutto il campo sportivo anche i tifosi che erano presenti hanno ascoltato hanno sentito ma la terna arbitrale non ha agito non ha detto niente ed è andata avanti rimanendo un po in tema di calcio calcio anche a grandi livelli si sta avvicinando a Iesi il Mancini Day e allora pagina nella pagina di Emilia Romagna Marche del resto del credito di oggi troverete questa notizia che riguarda appunto questa giornata domani sera alle ore 21 un evento che si terrà a Iesi appunto per celebrare Mancini il commissario tecnico del nazionale per lui uno show da tutto esaurito il CT è il nostro ambasciatore nel mondo arriva domani nella sua Iesi con la coppa vinta a Wembley biglietti 1300 al Palasport bruciati praticamente in due ore il sindaco più turisti grazie a lui domani sera dicevamo alle ore 21 l'evento sarà condotto da Marino Bartoletti e si potrà assistere per tutti quelli per quelli che non hanno avuto la fortuna di prendersi e accappararsi il biglietto quindi non fa parte dei 1300 fortunati lo potrà seguire comunque attraverso la pagina di internet attraverso Facebook se non ricordo male e qui insomma in questo articolo si parla di come i suoi concittadini gli hanno dedicato un murale gigante il consiglio comunale si è riunito per lui diventerà ambasciatore insomma sono tutti ad attendere intanto questa sera sarà ospite di Bruno Vespa per rilanciare questa nuova edizione del programma del veterano dei giornalisti insomma questo è un po' l'articolo che troverete sui due quotidiani Green Pass genitore in regola titola il Corriere Adriatico a pagina 8 ma dai prof le prime denunce cinque insegnanti cinque insegnanti si sono già rivolti all'avvocato per procedere contro i rispettivi dirigenti scolastici più tranquillo invece il fronte dei servizi educativi l'assessore Ceccarelli dice verifica è campione e per ora è andato tutto bene la legale Giampaoli dice è un caos non sarà un anno semplice sto seguendo anche gli universitari questo è l'articolo che porta la firma di Luigi Benelli poi a pagina 21 invece sempre sul tema del Green Pass andiamo a Fano perché come abbiamo appena visto dalla prima pagina Green Pass no io devo pregare proteste Novax a San Paterniano ingresso negato in Basilica prima della messa domenicale c'era l'incontro internazionale polifonico città di Fano e il diritto di praticare la fede scrive il giornale e le persone che volevano semplicemente entrare per pregare dice hanno detto e lo riporta Massimo Fuchetti questa mattina sul giornale almeno lasciateci liberi di entrare in chiesa quando vogliamo e quando ne sentiamo la necessità ha dichiarato una signora di fronte alla irremovibilità del personale di servizio andare in chiesa non è come andare a teatro o come recarsi al ristorante almeno la domenica dovrebbe essere un giorno in cui prevalgono le cerimonie religiose su quelle di spettacolo era arrabbiata, si sentiva lesa come le altre di un suo diritto fondamentale quello di praticare la sua fede religiosa padre viabile che cosa dice il concerto non incideva sull'orario delle funzioni il problema non c'era e invece mi permetto di dire che il problema invece c'è perché non è che uno prega a comando alle 11 adesso prego questo lo fanno i monici, lo fanno chi ha ma chi si sente in quel momento di dover andare chiamato ad andare a pregare o un'esigenza di andare a pregare non è che guarda l'orologio ecco quindi già ci sono gli orari di chiusura e di apertura che un po' complicano la vita quindi poi di domenica addio a sante invece tra i patron della ristorazione questo è un articolo che troverete sempre sulla pagina di Fano del Corriere ma anche del Carlino è morto sante Rossini aveva 69 anni titolare del ristorantino da Giulio storico ed apprezzato locale di pesce fondato dal padre Giulio in zona Sassonia e poi ha avuto anche degli incarichi come presidente della federazione dei ristoratori di Fano i suoi funerali si svolgeranno oggi nella nuova chiesa del Carmine alle ore 16 così titola invece il resto del Carlino si è spento sante Rossini lo chef dal cuore d'oro Anna Marchetti fa un ritratto molto bello di questo ristoratore che appunto è titolare insieme a Paolo Ventoreno del ristorantino da Giulio e del Mamadera a Sassonia ha servito presidenti del Consiglio ma anche i reali ma anche i poveri sante infatti era un filantropo faceva del bene ma non voleva che si sapesse non negava mai il cibo a chi ne aveva bisogno e soprattutto voleva che venisse consumato dignitosamente a tavola e non su una panchina per mesi ha assicurato la cena ad un gruppo di cattolici ortodossi in difficoltà poi hanno trovato lavoro e si sono sistemati e le sue ceneri sarà cremato il 17 settembre giorno del suo settantesimo compleanno saranno poi deposte nel cimitero centrale a fianco a quelle del padre Giulio sante era tra l'altro anche un violinista e un appassionato melomane così lo ricorda il collega Paolo sempre dai giornali dal Carlino schianto fatale la vittima segnalò il pericolo parliamo di Alessandro Minardi il 57enne che ha perso la vita in via Campanella nella zona del Codma Rosciano di Fano e che tre mesi fa scrisse in proposito a proposito di quella strada da lui ritenuta pericolosa di aver scritto un post già sui social tuona l'Udc e che cosa aveva scritto aveva scritto ben tre volte ho chiamato i vigili causa Covid sembra che l'urbanistica è sotto cassa integrazione quindi polemizzando un po' sul fatto che aveva già segnalato ben tre volte la pericolosità di questa strada che però non ha sortito alcun effetto poi a proposito di strade c'è questa notizia che abbiamo già dato anche ieri nel telegiornale ma vale la pena ricordare perché è comunque si tratta di lavori sulla superstrada la Fano Grossete in un tratto frequentatissimo e questi lavori saranno piuttosto lunghi intanto sono iniziati ieri mattina e prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale di questo tratto tra Bellocchi e Colli al Metauro fino all'uscita dunque di Calcinelli un totale di 7 km sulla carreggiata che però va da mare verso Monte quindi in direzione Roma al momento è chiuso e quindi fate attenzione lo svincolo di Lucrezia su questo lato quindi lato mare-monte lato Roma c'è lo svincolo quello dove c'è l'autovelox tanto per capirci ecco quello è chiuso stando ai tempi previsti entro metà dicembre la strada sarà riaperta integralmente al traffico sarà ripristinato il limite massimo di velocità di 110 km orari l'intervento prevede un investimento di 2.700.000 euro così come ha riferito l'assessore regionale Francesco Baldelli invece domani cioè quando inizierà la scuola quindi sì credo nel prossimo giorno insomma dieci aule nuove per la nuova scuola la nuova scuola di Cucurano e Carrara o Carrara-Cucurano se più vi piace come più vi piace e che aprirà regolarmente domani ieri è stata già come dire presentata presentata anche alla stampa è stata una giornata per completare gli ultimi arredi di questa nuova scuola elementare si tratta di dieci aule per 200 bambini delle scuole elementari ed è come vedete anche da queste fotografie insomma una bella scuola molto attrezzata ci saranno tra i vari servizi ci saranno anche il sistema di video e sorveglianza interna ed esterna poi il tetto che è stato realizzato con un impianto fotovoltaico fotovoltaico da 64 kilowatt che fornisce praticamente l'elettricità in tutta la struttura poi come vedete all'interno queste fotografie con gli arredi che ancora devono essere ultimati e terminati ma insomma per domani sarà tutto tutto pronto rimane soltanto da realizzare il prolungamento di via Dubcek verso la strada statale Flaminia è un tratto di collegamento comunque importante che però è in fase di progettazione mentre a Mondavio e qui siamo di nuovo sul Carlino un'ala del cimitero è a rischio crollo quello di Sant'Andrea di Suasa frazione di Mondavio che sta cedendo praticamente prima che la situazione precipiti causando anche dei gravi danni è necessario come scrive Sandro Franceschetti è necessario procedere con un intervento di messa in sicurezza che prevede la realizzazione di nuove fondazioni e rifacimento completo di 131 loculi che vanno dal 217 al 348 con conseguente temporaneo spostamento di tutte le salme di quel settore è per questo attenzione che il Comune negli ultimi giorni ha diffuso un avviso per dire e invitare soprattutto i familiari dei defunti a contattare al più presto l'ufficio ragioneria del Comune per mostrare la documentazione di titolarità dei loculi e poi concordare le operazioni di spostamento delle salme un intervento che costa circa 200 mila euro andando sulla pagina di Pesaro invece del Corriere si parla di questa coda dell'estate in effetti anche le temperature in questi giorni sono tutt'altro che simili autunnali sono ancora molto estive e c'è questa coda dell'estate che è definita appunto generosa ma gli alberghi stanno però stanno già chiudendo il presidente dell'associazione albergatori di Pesaro Oliva dice bene il calendario di settembre poi però è buio fitto ed è impossibile programmare e qui c'è anche l'incognita del virus chiaramente non sappiamo che cosa succederà da ottobre in avanti ovviamente tutti quanti scongiuriamo l'ipotesi che si possa tornare come dire in lockdown anche perché un terzo lockdown ovviamente non è più ipotizzabile o comunque sopportabile più che altro sarebbe questa la scuola dei nostri bambini la fotografia sul carriino di questa mattina dovranno entrare dall'uscita d'emergenza siamo a Coglie al Metauro dove il candidato sindaco Curina accusa lavori al palo mancano anche gli infissi alla Dezzi è messa pure peggio si parla delle strutture che dovranno ospitare da domani appunto alla ripresa delle attività scolastiche dovranno ospitare gli studenti in questo caso dei ragazzini dei bambini e quindi insomma l'accoglienza almeno dal punto di vista estetico non è che faccia venire la voglia di andare a scuola perché non è che sia un granché come struttura ma da Urbino invece insulti razzisti contro un giocatore il portiere del Montefano aggredito verbalmente Dakar questo giocatore nel corso della partita che poi ha perso domenica e cosa avrebbe detto avrebbe detto lo riporta il Corriere Adriatico vediamolo un po' eccolo qua sempre sulla pagina di Urbino mangia banane ecco questa è la frase avrebbe detto mangia banane che tutti riferita da parte del portiere avversario dopo un contrasto di gioco tra i due che tutto lo stadio ha sentito nessuno però dell'Eterna Arbitale si è presa la responsabilità si è presa la responsabilità di intervenire per punire in maniera impeccabile il giocatore però poi come si sa insomma ormai è tutto sotto gli occhi di tutto qualunque cosa facciamo è sempre lì e quindi chiunque può pubblicare commentare diffondere senza problemi e quindi questa frase che non è passata inosservata è finita sui social e di conseguenza sui giornali allarme invece andiamo a Senigallia qui c'è un problema che riguarda non solo Senigallia ma insomma in questo momento se ne parla sul Corriere di questa mattina l'allarme per i furti a raffica delle biciclette pare che ci sia questa banda specializzata ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa per quanto riguarda Pesaro anche a Senigallia insomma c'è questo problema furti a raffica ladri specializzati nel manomettere Lucchetti poi se ne vanno pedalando in pieno giorno ma la novità come scrive Talita Frezzi questa mattina sul giornale la novità dei cosiddetti ladri di biciclette è che non rubano più solo quelle che trovano parcheggiate per strada ma le prelevano anche dai cortili privati dai garage dagli stabilimenti balneari e soprattutto in pieno giorno sono velocissimi i malviventi sono così pratici da riuscire a manomettere i lucchetti con cui le bici sono ancora ai pali e rastragliere per poi scappare via pedalando l'ipotesi è anche quella di una o più bande dedicate al commercio dei pezzi sempre da Senigallia Ponte degli Angeli verso il Via Libera a fine mese verrà aperto alle auto l'ipotesi è che al traffico veicolare dal lunedì al sabato e dalle 6 del mattino alle 4 del pomeriggio poi tornerà dopo le 4 del pomeriggio a essere pedonale mentre sulla pagina del resto del calino qui chiudiamo la nostra rassegna si parla della chiesa sempre da Senigallia chiesa delle Grazie un'operazione salvataggio questa chiesa che tra l'altro risale al 1500 custodiva anzi tele del Perugino e di Piero della Francesca quindi all'interno c'era questa bella pala d'altare Madonna in trono con bambino e santi del Perugino poi la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca tutte queste opere ovviamente visto lo stato in cui si trova questo edificio questa struttura sono state spostate la tavola del Perugino si trova presso la Pinacoteca di Ocesana di Senigallia dal 2016 mentre la Madonna di Senigallia presso la Galleria Nazionale delle Marche a Durbino dal 1917 qui parliamo di una struttura di una chiesa e convento che sono stati progettati da un architetto che si chiama Baccio Pontelli da Urbino nel 1449 i primi frati minori si stabilirono qui nel 1492 e poi però nel 1866 tutta questo complesso e l'area adiacente diventarono proprietà del Comune di Senigallia i frati minori lasciarono il convento nel 2008 dopo 515 anni di presenza ininterrotta e con questo noi chiudiamo qui la nostra rassegna l'appuntamento con l'informazione come sempre torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio della Notizia vi ricordo che come sempre potete collaborare anche voi con la nostra redazione in che modo? Attraverso le segnalazioni segnalazioni che potete inviare con un sms oppure con whatsapp che è molto più comodo al 338 4968 250 e l'occasione è appunto quella di ringraziarvi perché tante sono tante sono le segnalazioni che ogni giorno ci aiutano appunto a preparare il telegiornale l'augurio è di trascorrere una buona giornata e arrivederci a preparare a preparare le segnalazioni le segnalazioni che state invito quelle le segnalali